E tu chi sei? Non lo vedi? Sono vestito di rosso! Ho capito! Sei un comunista! Papà, i comunisti! Ma no! Non lo vedi che ho la barba? Sei un televano! Sei venuto a entrare vestito! Aiuta! Ma no! Sono Babbo Natale! Ne ho sentito parlare! Cosa mi hai portato? Cos'è sta merda? Gli avevo chiesto a PlayStation 2! Menti vecchio! O te ne vai o ti faccio fuori e poi dico che era legittima di ferra! Ma... sta volando! E... è magico! Ma allora... è... è... Harry Potter! Casezione! Hm... ti credi che ci sono uno! Ma lui archi fa come qua! Si io finisci un luogo di cinesta...